Chissà se avrete rispettato la vittima che arrivava su questa città, e invece poi non avete dato più per la discussione, avete sentato questo evento sulla pubblicazione, quante concessioni sono state 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 non ci sapevi, non ci sapevi, io ho proprio delle applicazioni, è un strumento valido, io vedevo l'anno giorno, non darevi racconto, faceva l'interimento a un individuo, a propura, ai mano, gli altri, quando diceva che il piano data non ha usato i conti che si fa, le posizioni di organizzazioni speculative, dicete, edificazioni volatile, perché se il piano è stato in grattisci, ti non darai mai racconto con questa affermazione, che ha di causa in comunicazione, che è un grattisci. Dove la chiesa ci può essere che non soddisfa, con i costumi di comunicazione che ha lavorato, vedi, vedi sanare dati di macchie destinazioni, vedi sanare dati di macchie destinazioni, vedi sanare che un sistema di cente-vigili, commerciali grandi che vivono a lungo da tempo e che neanche la mia organizzazione precedente non l'avevo condentato, perché oggi ce l'avremmo sanato. Noi discutavano da vedere le situazioni per il pubblico. C'era il primo senatore che ci parlava, andiamo a contrastare quella che qualsiasi sottolinea questa situazione sull'area definita delcom, se ricordo bene. E' normale, però, nel normale, e quella che è la legittima che si è presentata non lo stai con cento. Non lo stai con cento. Non lo stai con cento. Sì, mi hanno dovuto aver sguardo a risposta di amore. E' un po' che non lo stai con cento, non lo stai con cento, non lo stai con cento. Non lo stai con cento. Io ricordo bene una legione fatta dalla Commissione umanistica, che è arrivato, sospedata dai vedi, fare le cose del piano caldo, perché nel frattempo della ragazza o della comunità umanistica, capisco che era attesa a questa amministrazione. Ma ricordo che c'erano altri testimoni, insomma, quella seconda, in cui un dirigente diceva, ai vedi, io non sono promesso, perché non si inquadrano in questa attività e a concedere cambi di destinazione a tante altre situazioni che potranno crearsi purtroppo per piano caldo, ma che purtroppo non condividono. io, guardate, vedete, vedete, io sto chiesto a capire, alcuni atteggiamenti che avete, perché sono contrastanti, sono contrastanti, perché mentre si fa di trasparenza, vale di partecipazione collettiva, io quando si parla di avere un pacchetto, non ho mangi sulle partecipazione collettiva, e trasparenza. attenzione, non vuole essere assolutamente una tutta chi oggi lavora con gli esigenzi della località, ma pensi alla politica in generale. Io ti dedico, invece, questo piano caldo, così come quello state presentando, aiuterà ancora di più è quello che non c'erano i partiti, poi detto se non vedete, una scientificizzazione di questa città, che avrò già a un primo anno da recente, solo il 25% o il 25% è molto bello, così finiranno gli avventi, e le situazioni, i soggetti antichi, di situazione di vita. Allora, non ci saranno più diverse, normalmente, e potremmo lavorare anche diversamente. in questo modo. Io ritengo che il piano caldo era un'occasione, lo realizzò, un'occasione, veramente per creare, un, diciamo, una destinazione, una migliore organizzazione di questa città, una migliore organizzazione di questa città, la migliore organizzazione di questa città, il mio città, anche per creare l'occasione di questo lavoro, ma noi ci sono un'unico organizzazione, da soltanto. io non ho mai capito, tanto per il mio città, ma per il mio città, ma per il mio città, che sono amore, Trae, ma no, la cosa che è data di ricerche di certo, di certo, perché inizia la sua venenza è il nostro po' su un'estremità, come si sopra tanto i modi, e così con la luce dei testi a cui si sceglie, non lo sa, in modo che ci fa, la cosa che deve fare. Ma non ho bisogno di scompare per ciò che io son un'unità. Ma dovete spingere per ciò che sai? Si fa cedere tra di su. Si si sceglie l'anima Si si scende l'anima Mi sono scopi che c'è un'anima E' un'anima E' un'anima Pensa il suo indietro Pensa il suo indietro Pensa il suo indietro E me cazzano I cavi! Io non a te che consiglio nel senso! Non assento! E consiglio nel senso! E forse si! Consiglio nel senso! Ed ecco te cazzo! E ho sempre detto che questa è stata finata e avere due siti! Consiglio del senso! Così ho sentitamente direi? Consiglio del senso! E ci vuoi avere i bensi. E ma quando ci sono sentesti i bensi gli vettori, gli altri non stanno adesso in questa portata e c'è qualche cosa. Cazzate? Allora, dicendo che il caso che sto a preparare facciamo diversamente, visto che ora non è il clima, non è quello che è, io mi aspetto, anzi di allontanare la mappa su Stato, e poi non videro, io faccio un riguardo di e-confedenza all'altezza nazionale.